Radio Control, automodello pronto all'uso, buggy Spin Viper 4WD in scala 1.18, velocità stimata 50 km orari. Tamiya, kit statico in scala 1.35 del caro armato Ammel Late Production. Accessorio del caro armato Ammel, la Metal Gun Barrel. Tamiya, kit in scatola 1.6 della DAX Honda ST70. Asegava, kit in scatola 1.12 della Honda RS250RW Campione del Mondo 2009. Kit in scatola 1.24 della Honda F1 che partecipò nel 1965 al Gran Premio d'America. Sempre Asegava in scala 1.24, la Lancia Delta HF Integrale 16 valvole che partecipò al Rally di Sanremo del 1989. Scala 1.72, Rosenbauer Panther 6x6, Airport Crash Tender. Mini 4WD, Festa John L, Green Special. Ancora Mini 4WD, telaio FMA arancio fluorescente. Sul nostro Storybay, modellismo.offerte, abbiamo appena messo in vendita la E10 Drift con carrozza Ford Mustang dell'HPI, con proposte di acquisto attiva. Aspettiamo le vostre offerte!